Benvenuti a questa, beh, è già una meravigliosa serata dal pubblico che vedo. Grazie per essere qui in questa serata, evento la chiamerei, che con gli amici del Rotary Club e del Circolo Cultura e Stampa Bellunese abbiamo voluto dedicare a quello che è considerato il più grande imprenditore italiano, sicuramente almeno degli ultimi 50 anni. Io sono Filiberto Zovico, fondatore di Italy Post, che è un centro di ricerca, di editoria dedicato allo sviluppo delle imprese e della cultura di impresa, che opera attraverso numerosi incontri ed eventi come questo, diciamo, in cui la cultura di impresa emerge con tante attività, tra cui il Festival Città Impresa, che si terrà proprio tra un mese a Vicenza e che quasi tutti conoscete. Ho un compito, lo confesso, difficilissimo, perché condurre a Belluno una serata di questo tipo, senza scadere nella retorica, senza farne un momento puramente celebrativo, non è facile, di fronte, come dire, alla storia di un uomo o di un imprenditore come Leonardo del vecchio. E quindi cercherò, per quello che mi riuscirà, di cercare di cogliere, credo, quello che io ho capito essere lo spirito di Del Vecchio, cioè molta concretezza, poca retorica, cercare di stare sui temi e cercare di trarre da questo grande esempio una lezione di impresa, se volete, e anche di vita in un territorio come il bellunese, come il nord-est, che è terra di imprenditori, di tanti piccoli imprenditori che vogliono crescere. Però prima di iniziare, io darei subito la parola al sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin. Buonasera, signor Sindaco. Grazie, signore, signori, il mio più cordiale saluto a tutti voi per essere qui e credo che la vostra presenza, la nostra presenza, sia il più caloroso tributo che possiamo dare a una persona come Leonardo Del Vecchio. L'amministrazione è veramente onorata di avervi qui questa sera e per questo voglio ringraziare chi ha organizzato questa serata, perché è veramente una serata importante e quindi voglio ringraziare il Circolo Cultura e Stampa e Rotary Club Belluno che ha voluto fortemente organizzare questa serata e credo sia veramente stata un'idea azzeccata, perché la storia di questo grande personaggio, Leonardo Del Vecchio, ha sicuramente cambiato la storia di questa nostra provincia. E quindi per questo ho puntato due cose, per non dimenticare nulla, perché veramente alcuni passaggi sono fondamentali. E vi dico che io non ho mai avuto la fortuna di poter conoscere Leonardo Del Vecchio, però non nascondo che mi sarebbe sempre piaciuto, perché è una persona che ho sempre ammirato, ho ammirato una persona perché ha dimostrato sempre tanta concretezza e pragmatismo e che sapeva sempre andare al cuore delle cose, questo credo sia una cosa fondamentale. Quindi per me Leonardo appartiene a quel ristretto gruppo di persone che ha segnato un passo, ha inciso qualcosa di indelebile nella storia, cambiando la vita di persone, di territori, creando qualcosa che prima non c'era. Questa è una grande cosa su cui riflettere. È stato un grande imprenditore, ma anche un uomo capace di guardare oltre il profitto e di mettere al centro della sua attività il benessere delle persone e di un'intera comunità. Ha creato un'azienda che ha fatto storia del Made in Italy, ma ha anche investito nella ricerca, nella formazione, nella cultura e nella solidarietà. Sempre una cosa importantissima è questo essere solidari con una comunità in cui si vive, in cui si fa crescere. Quello che è incredibile di lui è che non ha diviso mai il lato umano da quello imprenditoriale. Ha saputo creare un impero mantenendo quella sensibilità verso le persone e le fragilità. Ha sempre, sempre vicino ai bisogni di una comunità. Sapeva sedersi ai tavoli dei potenti, così come preoccuparsi del welfare dei suoi operai, del doposcuola dei figli dei suoi dipendenti, dei buoni libri e di tanto altro che ha tradotto concretamente in servizi aiuti. Grazie alla sua visione il nostro territorio è diventato capitale mondiale dell'occhiale, un polo di eccellenza in cui si sono concentrate le competenze, le innovazioni, le opportunità di un intero settore. Ma non solo. Luxottica ha anche contribuito alla crescita economica della nostra provincia, non possiamo dimenticare questo. Creando posti di lavoro, sostenendo la filiera produttiva locale, promuovendo la qualità dei nostri provotti e dei nostri servizi. Ecco, allora credo che in questa serata vogliamo veramente ringraziare Leonardo Del Vecchio per tutto ciò che ha fatto per il nostro territorio provinciale intero, ma anche per l'esempio che ci ha dato, perché è la passione che ha dimostrato la sua determinazione e la sua grandissima umanità. Siamo sicuri che la sua eredità, ma questo ne sono certo e credo di condividerla con voi, continuerà a vivere e a ispirare le generazioni future. Perché la grandezza di un uomo non si misura solo dalle cose che ha fatto, ma anche dalle persone che ha influenzato e dalle idee che ha lasciato. E per finire, permettetemi una considerazione del vecchio, ci insegna un'altra cosa grande. Ci insegna che non importa quando importante, potente e ricco tu sia. Più ancora della posizione, le persone si ricorderanno di te per il tuo cuore e sono convinto che il suo era veramente grande. Grazie a tutti e buona serata. Grazie, grazie signor Sindaco. Inutile che lo sottolini, in sala ci sono tanti amici, compagni di viaggio di Leonardo del Vecchio, alcuni li vedremo nel filmato che poi vedrete davvero emozionante. Quindi non posso ringraziarli e chiamarli per nome uno per uno. Permettetemi di salutarne solo uno a nome di tutti, e cioè Luigi Francavilla, presidente onorario di Luxottica e il suo amico da una vita. Grazie di essere con noi questa sera. Ci ha fatto molto piacere. Ma adesso devo presentarvi e dare la parola a chi davvero ha voluto questa serata, poi noi abbiamo cercato di contribuire. Partirei da Gianmarco Zanchetta, presidente del Rotary Club di Belluno, illustre bellunese, come si dice, ed economista, che ha seguito nei suoi incarichi nella finanza nazionale e non ultimo come amministratore delegato di Friulia, che sapete, è la finanziaria regionale. Presidente Zanchetta. Allora, uno alla volta. Uno alla volta? Uno alla volta. Va bene. Buonasera. Uno alla volta. Avevamo deciso che stavamo sempre insieme. Io... È stata una copiata, dai. Allora. Vai con lui. Allora, chiamo anche Luigi Boito, presidente del Circolo Cultura e Stampa Bellunese, ma anche promotore del teatro e della cultura bellunese, dopo una vita dedicata al mondo delle imprese, anche come promotore e presidente di Certottica. Ma parlate insieme? No, parliamo ognuno per quanto nostro, ma in questo mese di duro lavoro... Non è un duetto, va bene. ...si è creata un'amicizia e un rapporto incredibile per ottenere questo risultato. E io l'ho scritto dentro, ma ti dico grazie in testa, Luigino. Grazie di tutto. Signori, buonasera a tutti. Siete veramente tanti. Grazie di cuore. In particolare alle autorità tutte, ai presidenti dei Rotary Club Amici. Impossibile ringraziarvi tutti. E quindi vi ringrazio di esserci vicini. Questa serata rotariana è nata in collaborazione con il Circolo Cultura di Belluno, e ho già ringraziato fortemente Luigino Boito per l'incomiabile aiuto organizzativo, e non oltre, e oltre che poi spiegare a lui che si ha dato per completarla veramente. Noi dei Rotary l'abbiamo voluta per dare un segno forte, un saluto straordinario al nostro socio onorario, Cavaliere del Vecchio Leonardo. Un saluto che fosse all'altezza di quello che lui ha rappresentato per tutti noi. Noi Rotariani siamo onorati di averti per sempre come nostro socio rotariano, onorario. L'impegno della mia annata sono i giovani. Lo sviluppo dei giovani imprenditori e professionisti, con la loro presenza nei Rotari, ma in particolare la nostra vicinanza ed esperienza come rotariani, perché restino nella nostra provincia con le loro capacità. Questa serata noi rotariani, tutti insieme, la dedichiamo in particolar modo a loro, ai nostri giovani di questa provincia. Cari giovani, quanto riusciremo ad esprimere con il nostro cortometraggio e la presentazione del libro con l'aiuto del bravissimo, che ringrazio Tommaso Eberhardt, che è qui con noi, titolato scrittore Tommaso, è l'esempio che va colto di Del Vecchio Leonardo. Lui amava noi come belunesi. Noi abbiamo contribuito come popolazione al suo sviluppo imprenditoriale mondiale. Lui ci lascia un'eredità che dovrà essere la nostra forza. Amava i collaboratori come le persone della terra belunese. I suoi punti di forza erano determinazione, tenacia, riservatezza, passione. Cari amici, cari giovani, facciamo nostri questi doni. Grazie. Tocca a me, sarò breve, come mi hanno pregato sempre gli amici. Non temete. È stato un piacere, veramente un piacere, collaborare con il Rotary Club di Belluno, soprattutto perché ho ritrovato un amico, Gianmarco Zanchetta, con il quale ho condiviso tutto. Tutto. E allora siamo onorati di avere qui un grande, giovane scrittore che ha vinto il primo premio quest'anno da Industria Centro, Industria Est, Venezia, Rovigo, Padova, Treviso, come la miglior narrazione che coniuga cultura e industria. Complimenti. Abbiamo bisogno di questi valori. Ma torniamo a noi. Innanzitutto abbiamo voluto introdurre questa serata in maniera soffice, live, semplice, umana. Abbiamo voluto tornare all'origine quando Del Vecchio era come noi. Anche lui, un umano, con le sue difficoltà, con le sue passioni quotidiane e siamo andati più volte in Agordo per cercare quegli amici che hanno condiviso con lui 40-50 anni di vita assieme e hanno dato delle testimonianze schiette, semplici e forse mai riconosciute o ai più sono inedite e però proprio per questo danno valore questa sera a questo filmato. Siamo andati in Agordo più volte a trovare questi amici quelli che per 40-50 anni andando in fabbrica hanno sempre dato del lei. Buongiorno signor Leonardo. Buongiorno signor Leonardo. quelli che sono andati in montagna assieme di domenica perché di sabato si doveva lavorare. Quelli che hanno cantato le canzoni di montagna e hanno alzato il bicchiere. Quelli che lo hanno atteso quando è tornato morto e hanno fatto il picchetto d'onore nella nel palla luxotica e uno di questi è svenuto. Quelli che avrebbero voluto che Leonardo del Vecchio rimanesse anche da morto in Agordo perché ogni giorno un fiore sarebbe arrivato sulla sua tomba. Un fiore fresco. Quelli che si stanno adoperando perché la piazza di Agordo il broi venga intitolato a Leonardo del Vecchio. Ebbene se è vero quello che è stato scritto in una rivista della luxottica Asta la Vista dove dicono dove dice Leonardo i miei collaboratori sono stati la differenza più dei marchi più delle catene di produzione più delle catene di distribuzione e a loro va il mio riconoscimento della mia vita. Ebbene qui questa sera abbiamo fra noi fra questo pubblico una gentile signora che è stata la diciottesima operaia della luxottica. A lei io chiedo un applauso signora Maria Luisa Pramaor eccola qui e questo applauso tramite lei va a tutte le maestranze della luxottica. Termino perché in una intervista che voi vedete Leonardo del Vecchio quando era presidente dell'ospedale di Agordo in un'intervista che mi è stata donata da Italo Schiena del Vecchio dice 40 anni fa aveva lo sguardo lungo e anticipa quella che è l'emergenza attuale di questa provincia di questa nostra o Veneto di questa nostra nazione cosa anticipa l'emergenza verso gli anziani lui presidente dell'ospedale di Agordo dice non aspettatevi tutto dallo Stato dalla Regione valorizziamo il volontariato e facciamo sì che le persone anziane abbiano una giusta assistenza e il Circolo Cultura e Stampa che è anche un ente di formazione quest'anno insieme al CEIS riesce a fare 30 operatori sociosanitari su 400 che mancano in provincia ascoltiamo la testimonianza di Del Vecchio anche su questo sulla solidarietà verso le persone fragili e adesso buona visione grazie Gianmarco Zanchetta e grazie Luigi Novoito per aver contribuito a questa serata prima di partire fatemi ringraziare Angela Darolt che ha curato questo filmato questo docufilm che adesso vedremo insieme se la regia è pronta a partirei grazie 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 Leonardo Del Vecchio uomo imprenditore con Belluno nel cuore lui ha sempre avuto un grandissimo senso di gratitudine nei confronti delle genti a Gordine credo che nessuno può negare che il Cavaliere Del Vecchio è stato davvero sempre attento alle necessità non solo della Gordino ma anche direi di tutta la provincia il ritratto del patron di Luxottica tratteggiato da chi ha vissuto il signore a Gordino Grazie a tutti. 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 Io ho lavorato in Lusotica a 40 anni, quando lavoravo da giovane che giocavo anche a calcio, nel frattempo il signor De Vecchio è diventato presidente della Cia Agordo, praticamente mi lasciava andare a fare l'allenamento al pomeriggio, però la sera dovevo recuperare le ore che avevo perso per l'allenamento. Sicuramente l'amicizia con Floriano, mio padre, l'ha portato molto a frequentare la nostra casa, che lui era spesso qui con la famiglia, ma anche con i suoi manager e sicuramente tante decisioni per l'evoluzione della Lusotica li ha prese magari al tavolo nostro mentre mangiava i nostri piatti. Leonardo Del Vecchio si è impegnato dalla politica all'informazione passando per la sanità con obiettivi precisi, i diritti e la crescita socio-economica del territorio. Siamo nel 1980, lui aveva 45 anni e allora erano indette le elezioni amministrative per il comune di Agordo. Noi, io Del Vecchio e mio papà che allora era amministratore delegato della Lusotica e quindi lo frequentava quotidianamente, abbiamo fatto una lista. La lista era della democrazia cristiana. È una buona lista, secondo me, ottima lista anche perché al suo interno aveva un altro grande rappresentante, diciamo così, il Bruno D'Aipra, che era un industriale, che aveva donato la casa di riposo di Taipo. Noi abbiamo perso, però io e Leonardo Del Vecchio, avendo avuto molti voti, siamo entrati in consiglio comunale come minoranza per cinque anni e ricordo che facevamo la riunione di preparazione dei consigli comunali a casa sua. Io penso che il volontariato sia utilissimo anche perché possa insegnare alla gente che non si può aspettare che tutto venga dal cielo o dallo Stato o dalla regione o dal comune. Chi sa guidare il pulmino per andare per gli anticapati o la moglie che aveva mezza giornata, tre ore al giorno, una volta al mese, a assistere gli anziani. Io penso che tutti capirebbero che c'è qualcuno che pensa per il giorno in cui uno ha bisogno degli altri. Io penso solo a questo. Ho avuto il piacere di conoscere personalmente Leonardo Del Vecchio quando nei primi anni Ottanta con un gruppo di imprenditori decidemmo di fondare Telebelluno per costruire una informazione più moderna, più innovativa, che raccontasse la rinascita sociale e lo sforzo imprenditoriale dopo il Vaiont. Nominato amministratore delegato, il signor Del Vecchio mi prese in disparte e mi suggerì alcune cose che potevo fare, alcune cose che non dovevo fare. Questi suggerimenti sono raccolti in un foglietto che ancora conservo. La scuola materna Cappello, il polifunzionale e il centro parrucchiale Monsignor Savio sono solo alcuni esempi della generosità del Cavalier Del Vecchio verso il suo territorio. Ho avuto modo di constatare e sperimentare la generosità del Cavalier Del Vecchio quando sono stato nominato Arcidiacono di Agordo nel 2009. Era in progetto il centro parrucchiale e Luxottica si è subito resa presente in maniera molto concreta e generosa per riuscire ad aiutarti a portare a termine quest'opera poi intitolata a Monsignor Vincenzo Savio. Una opera di affiancamento alla parrocchia che è durata anche dopo la realizzazione con delle donazioni annuali che ci hanno aiutato ad affrontare il ripeso del mutuo che avevamo contratto. Ricordo che il 13 dicembre del 2003, giorno di Santa Lucia, patrona della vista, andammo in visita al Papa Giovanni Paolo II. Lui era accompagnato dai figli Marisa e Claudio e con gli amici Chemello e Francavilla ed ebbe il privilegio di andare al soglio pontificio e baciò la mano del Papa. Però anche il Papa ebbe un grande privilegio perché dalle sue mani ricevete un generoso contributo per le opere di carità di San Pietro. Visionario è uno tra i termini che identificano maggiormente il patrone di Luxottica. Una persona come Del Vecchio Leonardo per me è stata un esempio di vita. L'ho incontrata i primi anni, la mia prima direzione in Cadore, dove giovanissimo, 26 anni, il suo nome cominciava ad entrare dentro nel motore delle occhialerie. Era un uomo che tutti guardavano e tutti studiavano. La sua decisione, la sua concretezza, la sua velocità di pensiero sono state caratteristiche che mi hanno sempre poi accompagnato. Negli anni 98 vengo richiesto di partecipare allo sviluppo della Popolare di Belluno proprio nel momento in cui lui l'aveva lasciata. La stava lasciando perché ricordo benissimo le ultime mattine da Presidente che lui mi invitava in Agordo e mi dava appuntamenti comodissimi, 5 e mezza, 6 e mezza del mattino. Erano stati forse i due o tre momenti più belli dove lui concludeva questo rapporto con una creatura che aveva fatto a Belluno ma da quel rapporto io ho un ricordo enorme, il ricordo della sua bellunesità perché stringendomi la mano mi disse sono veramente contento di aver fatto un'operazione dove i bellunesi hanno potuto guadagnare qualcosa. nessun bellunese ci ha rimesso una lira e questo era il suo pensiero. Mi ha chiamato un giorno ad Agordo e mi ha detto l'avvocato se la senti di andare domani a Genova? Genova? Perché? Guardi, vogliamo aprire un museo dell'occhiale ma la più bella collezione al mondo ce l'ha un ottico di Genova si chiama Rartschuler domani prenda l'elicottero, vada, faccia quello che vuole veda se riesce a portarmi questa collezione ad Agordo primo viaggio, secondo viaggio, dopo 20 giorni la collezione ad Agordo credo che sia stato il primo, dico credo perché evidentemente non posso avere la certezza però che sia stato il primo in Italia a dare la mensa completamente gratuita ai suoi operai e la rata in tempi in cui non vi era la ricchezza e la forza della luxottica attuale la rata in tempi in cui ancora si combatteva per arrivare alla fine del mese ancora si combatteva per pagare i fornitori tutta l'attività di welfare che si è sviluppata in luxottica negli anni successivi fino a farla diventare un esempio in Italia credo anche nel mondo nasce proprio dal suo spirito personale dalla sua, questa sua grandissima attenzione e grandissima responsabilità che si sentiva nei confronti di tutti i soggetti con i quali lavorava nell'estate del 1992 a Belluno in Sala di Luca il comitato di presidenza di Anfao di cui faceva parte anche Leonardo Del Vecchio decisero di realizzare il primo istituto di certificazione italiano per la sicurezza del prodotto ottico e così nacque Certottica io veni poi nominato segretario generale iniziati i lavori nella sede di Longarone Del Vecchio venne a visitare l'avanzamento dei lavori e poi si intrattenne con i tecnici con tutti i tecnici nei laboratori nuovi perché era curioso di capire quali erano i test di prova per la certificazione CIE di un prodotto ottico Grazie a tutti 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 Nello che molto perché è stato prima in classifica. È stato quest'estate, è stato il saggio più venduto quest'estate secondo la classifica del Corriere della Sera, tra i libri più venduti del 2022, insomma mi fa molto piacere portare in giro questa storia, anche se la mia famiglia, soprattutto i miei figli che si sono solditi 30 presentazioni del vecchio alla fine, insomma la conoscono meglio di me, tant'è che mio figlio non ho qui la copia, mio figlio ha otto anni, ha scritto un piccolo libro lui su Luxottica che ogni tanto alle presentazioni presenta, fa anche lui il firma copia, l'ha appeso sulla porta del bagno di casa nostra, firma copia alle 20 e 30, io ne ho comprate le uniche tre copie che ha fatto se volete. Però confessi pure pubblicamente che quando le ho detto che si prendeva questa iniziativa a Belluno, un po' di emozione… Ma un po' di emozione, molta emozione c'è anche adesso sinceramente devo dire la verità per me venire a parlare di Leonardo del Vecchio Belluno, perché non è stato neanche facile devo dire realizzare questo libro, proprio per la ritrosia naturale che aveva Leonardo del Vecchio a raccontarsi, timidezza, la non volontà di raccontarsi al grande pubblico, insomma ci sono tante persone in questa sala che mi hanno aiutato a partire dal signor Francavilla, che Mello e tanti altri, non li nomino tutti, alcuni dei suoi primi operai, per fortuna che sono, pur avendo un cognome tedesco, la mamma svedese e lavorando in inglese, sono di Treviso e quindi parlo il dialetto veneto perché sennò sarebbe stato difficile devo dire far sciogliere magari un paio di spritz per raccontare le persone, insomma se fossi un giornalista americano secondo me non avrei portato a casa tutti quegli aneddoti che il Veneto mi ha aiutato pur non essendo ogni asse, quindi insomma avendo un grosso problema di essere foresto per ogni agordino, però insomma ho cercato di compensare con un po' di Veneto. Ecco ma lei incontra del Vecchio, quindi come dire, scevro da qualsiasi condizionamento locale, la storia, tutte queste emozioni che abbiamo visto raccontare prima, come l'ha trovato come uomo e come imprenditore? Allora io... È stato facile affrontare... Allora, non è stato facile incontrarlo perché insomma Leonardo del Vecchio non incontrava abitualmente i giornalisti, poi insomma noi di Bloomberg siamo noti per essere molto pericolosi, diciamo dal punto di vista notiziabile, perché insomma ogni notizia che diamo, se la notizia viene data a Berpina, ha una conseguenza diretta sui titoli quotati in borsa, quindi le persone prima di incontrarci si pensano due o tre volte. Io seguivo già professionalmente Leonardo del Vecchio, insomma ho fatto la televisione di Bloomberg, l'ho inseguito tante volte, anche lì ogni tanto l'accento Veneto mi aveva aiutato, diciamo, a fargli strappare una battuta, però non lo conoscevo personalmente. Dopo aver scritto il libro su Sergio Marchionne, che per me rimane il manager più rivoluzionario del secondo dopoguerra, volendo raccontare un'altra storia, perché insomma io scrivo in inglese di mestiere, i libri li scrivo in italiano, è un momento diciamo mio, che mi permette di isolarmi dal lavoro, e quindi mi piaceva raccontare un'altra storia, ho pensato che quella di Del Vecchio, così sulla carta, era una storia bellissima da raccontare. Quando sono riuscito ad incontrarlo, devo dire che è scattata quella scintilla, perché a me ha colpito tantissimo la sua semplicità e in qualche modo la sua essenzialità. Cioè, chi legge le cronache su Luxottica, Silor Luxottica, le battaglie per il controllo negli ultimi anni, in mesi, anche le battaglie sul fronte finanziario, si aspetta qualcosa di molto costruito, e invece Leonardo Del Vecchio era una persona molto semplice, con delle idee essenziali che portava all'estremo. E questa, insomma, la linearità del suo ragionamento mi ha subito colpito tantissimo. Poi mi ricordo di quell'incontro... Scusi, dei tanti imprenditori che hai conosciuto, aveva delle caratteristiche particolari o ce n'erano anche altri? Allora, io ho conosciuto, diciamo, tanti imprenditori e tanti manager di livello internazionale. In alcuni, in quelli che secondo me, che a me hanno colpito di più, c'è qualcosa che ti colpisce molto nello sguardo, no? Che è quello sguardo che vede lontano, quella convinzione e l'importanza di quello che si sta facendo. Ecco, Leonardo Del Vecchio era convinto che quello che stava facendo lo doveva fare al meglio possibile e quello che lui faceva e doveva fare bene erano gli occhiali, no? E doveva farli meglio di tutti. E questa cosa te la faceva trasparire anche quando era capo di un impero come adesso, Luxottica e Silor Luxottica, no? È in assoluto il più grande produttore eyewear, come diciamo noi in inglese, del mondo. Contiamo tutti i dipendenti delle aziende controllate, siamo quasi 200.000 persone in tutto il mondo. In borsa vale 80 miliardi di euro. Eppure Leonardo Del Vecchio si concentrava ancora sulle astine, sulle viti, su come ti deve stare all'occhiale addosso. Cioè non aveva mai perso di vista il centro della questione, che nel suo caso era il prodotto, no? Se il prodotto era buono, era il migliore, per forza doveva andare bene. E quel focus, che in qualche modo io definisco anche ossessione, è quella che ti permette di essere, secondo me, di diventare numero uno al mondo, no? E questa cosa da lui si coglieva. L'ossessione, che è una fortuna e anche una condanna, no? La condanna è che non ti fa mai staccare, no? Se sei ossessionato da quello che fai ci tieni talmente tanto che non stanchi mai. E la fortuna, ed è quello che mi aveva colpito in quel primo incontro, è quella che siccome non ti accontenti mai, no? Vuoi sempre andare avanti, no? Mi ricordo parlando con il signor Francavilla la prima volta che l'ho incontrato, ho detto, ma come avete fatto? E fa, ma sa, all'inizio abbiamo fatto, ne facevamo cento al giorno. Poi mille, e poi diecimila, e adesso Luxottica fa, non so quante centinaia di milioni di occhiali tutti i giorni. E tutto questo, con una semplicità, come, no, un passo alla volta. Ecco, questa cosa qui è quella che ha fatto la differenza. E ha fatto la differenza nel trasformare Leonardo Del Vecchio da un imprenditore locale, un imprenditore italiano, a un leader mondiale. E questa è la grande differenza tra Leonardo Del Vecchio e quasi tutti gli imprenditori della sua generazione. Che lui, quando è diventato, ha iniziato a vedere la sua impresa, non ha pensato a Belluno, a Treviso e a Venezia come mercato di riferimento, no? Ha pensato al mondo. Cioè Luxottica ha iniziato prima a vendere in America che in Italia, perché il mercato è il mercato statunitense. Quindi ha pensato per prima ad aprirsi al mondo, prima di tutti. Ha capito per primi che, ahimè, il nostro paese, e lo è ancora di più, è dal punto di vista globale, che in qualche modo è un piccolo paese sempre più irrilevante, un paese importante ma non è il centro del mondo. Quando ti rendi conto che se vuoi essere il numero uno, l'Italia deve essere una piccola parte dove sei radicato, ma è il mondo che conta, allora cambia la dimensione. Lui ha sempre avuto questa cosa, no? Sin da quando era, sin da quando ho iniziato. E questo l'ha portato a diventare, a non accontentarsi mai del primato nel piccolo, ma pensare sempre più in grande. Se tu pensi sempre più in grande e non ti accontenti mai, fino a che non sei leader mondiale, non sei felice. Quando sei leader mondiale, e lì mi aveva colpito la prima volta del contratto, mi dice, sa, io vedo il titolo in borsa ogni mattina e dico, se arriva qualcuno e fa un'invenzione, un qualcosa di cui noi non ci siamo resi conto e ci frega il mercato, non posso mai stare attento. Ogni mattina dobbiamo controllare tutto, dobbiamo essere sempre pronti per arrivare prima degli altri. Ecco, questa ossessione, secondo me, nei grandissimi, è la condanna e la fortuna che gli porta a diventare numero uno. Beh, diciamo che non è vietato a applaudire ogni tanto. Perché questo elemento che ha citato dell'ossessione, diciamo, che hanno tanti imprenditori, unito, diciamo, all'idea che si guarda il mondo, che non c'è un limite, diciamo, no? L'universo, vabbè, è un limite dato, ma il mondo, diciamo, bisogna guardarlo così. E' la forza che fa crescere le imprese. Io mi sono innamorato di questo libro perché occupandomi delle piccole e medie imprese, le famose Champions, che col Corriere della Sera analizziamo ogni anno le mille migliori imprese, adesso a fine marzo le porteremo in borsa a raccontarsi, la cosa che ho capito degli imprenditori è che ce ne sono tanti che hanno un po' questa ossessione. In questo paese, tanti commentatori, economisti, ha il problema di questo paese che non ci sono le grandi imprese e di solito segue la battuta, a parte Luxottica. E' così. Sì, ma del vecchio non è partito da una grande impresa, l'ha costruita, no? Ed è questo il messaggio, secondo me, che va trasmesso agli imprenditori. Ma è del motivo... Quali sono gli elementi, diciamo, adesso lei ci ha citato quelli, diciamo, più strutturali, ma anche gli elementi manageriali? E come è cresciuta Luxottica passo dopo passo? Allora, innanzitutto quello che io ho scoperto, portando in giro questo libro, quindi portando in giro la storia di Luxottica, è che in questo paese manca veramente un racconto della cultura d'impresa. Cioè, l'impresa alla fine viene sempre vista come un qualcosa di... No, cioè, non suscita grandi entusiasmi nell'opinione pubblica, no? Il grande imprenditore viene sempre guardato con, in qualche modo, malcelato, malcelata diffidenza, al di là, a differenza che nel mondo anglosassone, no? Una cosa che, ad esempio, mi diceva sempre Sergio Marchionne, se in America vedi passare un uomo con una Ferrari, ti dici, ah, chissà cosa ha fatto di grande nella vita per potersi permettere una Ferrari. In Italia, se vedi passare uno con una Ferrari, dici, chissà chi ha fregato quello lì che si è comprato la Ferrari, no? Ma questo sta un po' nella visione che in alcuni casi c'è in questo paese. E quindi manca anche una narrazione della cultura d'impresa, perché uno, gli imprenditori, soprattutto qua nel Nord-Est, sono sempre stati impegnati nel fare e non nel raccontare quello che stavano facendo, no? Del Vecchio è un esempio, no? E le Ferrari le tenevano chiuse dentro il garage. Esatto. Del Vecchio è un esempio, no? Del Vecchio ha sempre detto io mi racconto attraverso quello che l'azienda fa, giustissimo. Però poi si scopre che manca una narrazione, una cultura. E quindi io ho scoperto adesso da poco, come diceva prima, mi è stato dato questo premio come il libro sulla cultura d'impresa del 2022. E lì ho trovato tanti imprenditori, tanti anche giovani imprenditori, che trovano grandissima ispirazione. Perché Leonardo Del Vecchio dimostra che anche in questo paese, nonostante le difficoltà strutturali, nonostante la burocrazia non funzioni, nonostante la politica spesso non sia un aiuto ma sia un ostacolo, anche se Luxottica dimostra come una politica fatta bene possa cambiare il territorio. Perché non dimentichiamo che Luxottica va ad Agordo perché quando stanno cercando un posto dove andare c'è un sindaco che ad Agordo dà delle agevolazioni fiscali e che permette a Luxottica di mettersi ad Agordo. Se non ci fosse stato quel sindaco magari Luxottica sarebbe nata da un'altra parte. Quindi la politica che ha il servizio, e non possiamo, nessuno qua può dire che Luxottica non ha aiutato il territorio in cui è stata, non l'ha trasformato. Luxottica ha trasformato Lagordino e in qualche modo il bellunese, no? È l'azienda leader globale nel settore che fa, ad Agordo lavorano quasi 5.000 persone, arrivano. Ogni volta che vado ad Agordo, a parte che è un posto magico secondo me, e chi ci sta non se ne rende neanche conto. di quanto magico, e premetto che io sono totalmente indipendente, quindi racconto quello che sento, no? Quanto sia magica, Agordo, per quando uno arrivi e cerchi di capire cosa è Luxottica, no? Perché è un piccolo, io mi occupo di economia globale, no? Nell'economia globale un'azienda tra le montagne, ma non ha senso, no? Tu dici perché è un'azienda tra le montagne, lontana dalle direttrici, a 4 ore da Milano, a 2 ore da Venezia, non c'è un'autostrada, c'è una sola strada che va, e invece Luxottica... Che è quello che l'avvocato Panitz probabilmente gli suggeriva, diciamo, no? E invece Luxottica non avrebbe senso se non fosse ad Agordo, perché Agordo e Luxottica sono in qualche modo, cioè sono diventati quasi la stessa cosa, no? E ad Agordo si respira un'aria di positività, di soddisfazione in quello che si fa, che è difficile trovare in questo paese, no? E quindi quando io, ad esempio, lo racconto nel libro perché sono rimasto veramente impresso, per arrivare ad Agordo, siccome conoscevo poco la storia degli occhiali in Italia, no? Parto dal Cadore, perché secondo me, per spiegare come mai in provincia di Belluno si fanno gli occhiali, devi partire da Rizios, questo paesino meraviglioso, dove nella seconda metà del 1800, Angelo Frescura fa i primi occhiali industriali in Italia, sostanzialmente. Il Cadore, a cui Luxottica ha tolto l'imprimatur, che il Cadore ha perso, se tu passi dal Cadore ad Agordo, il Cadore è in qualche modo, una parte del Cadore è abbandonato, tu cammini, io quest'estate sono andato lì qualche giorno in vacanza, a proposito facendo il giro delle presentazioni con la mia famiglia, con i miei figli abbiamo fatto delle passeggiate, arrivi in alcuni di questi paesini dove c'è la scritta occhiali in tante aziende abbandonate, dove gli occhiali non se ne fanno più da decenni. Quindi quando tu passi dal Cadore e arrivi ad Agordo, vedi proprio la differenza che può creare un'impresa di successo in un territorio, e ad Agordo questa cosa si respira, ed è un qualcosa di unico, che gli stessi Luxotticans, come si chiamano, non tutti hanno la sensazione quando sei là dentro soprattutto da tanto tempo, perché sei cresciuto assieme all'azienda, ma venendo da fuori fa impressione questa cosa qui, ed è incredibile come in Italia l'unica, una delle pochissime aziende leader a livello globale stia ad Agordo, no? E se vuoi in Veneto, io sono nato e ho cresciuto a Treviso, non è che se ne parli tutti i giorni, cioè non è che dici, invece è un primato assoluto, no? Come in Cadore dove hanno... E' un esempio delle Ferrari, in Veneto non si ama parlare dei successi degli altri. E' così, no? Però è veramente incredibile, un po' come a Rizios, dove sono nati gli occhiali, dove c'è i resti della prima fabbrica di occhiali, non c'è niente. Se fossimo in California ci sarebbe un parco a tema, che ho scritto occhiali, sono nati qua, la Silicon Valley dell'Ottocento, lì non c'è niente, sono andato io a cercare i resti, no? Questo perché forse questo paese ha un disperato bisogno di raccontare le sue storie, perché ce ne ha di storie che dimostrano che si può fare. Ma un imprenditore piccolo e medio, no? Che vuole diventare grandi, poi per carità non è che tutti possono diventare come del vecchio, se no sarebbe perfino, come dire, diventeremmo il primo paese industriale del mondo, ma che vuole crescere, che cosa può imparare dalla storia che lei racconta nel suo libro? Ma io ho imparato tre cose fondamentalmente. La prima è che non bisogna porsi dei limiti, no? La seconda è la perseveranza. Io nel mio libro cito l'ultimo film di Paolo Sorrentino, quando c'è una scena del film in cui c'è Diego Armando Maradona che batte le punizioni in allenamento al San Paolo di Napoli, no? E fanno vedere che ne batte una, dieci, cento, mille. E il protagonista chiede al fratello, il fratello che vuole diventare un regista, il fratello gli dice, hai visto cosa fa Maradona? E poi gli fa, eh sì, tirare punizioni. No, quella si chiama perseveranza, vuol dire tirarne 50.000 ogni giorno. Leonardo del Vecchio, in un'epoca in cui ogni tanto arrivano gli influencer e fanno successo in cinque minuti, dimostra che per arrivare a diventare il numero uno, ci vuole tempo e devi andare di un passo alla volta. Ma se vai un passo alla volta e l'obiettivo ce l'hai dritto, se sei capace può essere che ci arrivi. Questa cosa dimostra. Lo dimostra che lo puoi fare anche in Italia, anche partendo da Agordo. Questa è la storia, secondo me, universale che racconta Leonardo del Vecchio. Il suo libro è una biografia, non una geografia. Uno dei temi, come dire, più difficili per l'imprenditoria italiana, per qualsiasi imprenditore, è quello che a un certo punto, quando l'azienda cresce, quando si superano i 18 dipendenti, come abbiamo visto, poi bisogna strutturarla e servono dei manager. Che rapporto aveva del Vecchio con i manager? Non sempre linearissimo, no? Qui ne abbiamo qualcuno da chiedere. Alcuni di questi credo molto lineari. Uno che anche passava le vacanze in agosto con i gettoni in camper, in campeggio, con i gettoni in costume, a magari portare a casa un deal più grande di quanto loro avessero mai fatto prima. Allora, è sempre complicato il rapporto manager-imprenditore. Soprattutto nella nostra regione l'abbiamo visto tantissimo, com'è complicato, e questo è un tema che ovviamente rimane aperto, perché la successione è appena iniziata, il passaggio successorio alle prossime generazioni. Del Vecchio aveva una cosa, che quando studiavo, io ho studiato economia politica, e sono sempre rimasto affascinato dall'idea di Schumpeter. Allora, Schumpeter dice che l'imprenditore innovatore fa una rivoluzione che fa dei salti evolutivi, no? Ecco, Leonardo Del Vecchio, pur non essendo, diciamo, istruito, perché ricordiamo che Del Vecchio, no, nel mio libro ho avuto fortuna di poter visionare il suo fascicolo dell'orfanotrofio, dove ho trovato dei documenti incredibili che ti fanno capire molto. No, Leonardo Del Vecchio cresce in orfanotrofio, fa la quinta elementare, gli rimane sempre un po' questa cosa qui che si sentiva che lui non aveva potuto studiare, cerca sempre di recuperare questa cosa. E quindi è un imprenditore che dimostra come quello che Adam Smith chiamava gli animal spirit del capitalismo arrivano anche se non hai fatto un master in MBA alla Bocconi. Però lui aveva quell'idea del salto evolutivo e che vedeva le cose prima degli altri. Quando ce l'ha in testa, e lui l'ha fatto più volte, perché negli anni 70 è prima di Bezos, che fa con Amazon capisce che deve avere l'integrazione verticale, cioè che vince, che è in mano il cliente finale, controlla tutta la filiera del prodotto. Se lo diciamo adesso, sembra basilare, eppure negli anni 70 era una bestemmia, iniziare a prendere prima il proprio grossista e poi alla fine arrivare agli ottici. Ci sono degli ottici che ancora sono sconvolti dal fatto che Luxottica sia entrata anche nella distribuzione. Ricordiamolo che il mondo dell'ottica era un mondo molto chiuso, che aveva delle regole fisse da decenni, un mondo in cui tra l'altro i margini erano sempre stati molto alti e quindi c'è la possibilità di spartirsi la torta. Ecco, lui per primo capisce l'integrazione verticale. Nel 74 compra la Scarrone e poi nell'81 va in America e compra il distributore americano, che a pensarci adesso è una cosa che gli avrebbero dato per matto. Ferruccio De Bortoli, che ha scritto l'anteprima del mio libro, dice chissà che adesso, se Leonardo Del Vecchio fosse nato adesso, se con tutti i requisiti patrimoniali che le banche chiedono agli investitori per fare degli investimenti gli sarebbero stati dati fidi per certi tipi di investimenti che ha fatto, che all'epoca alle persone razionali sembravano folli. Quindi è chiaro che è difficile il rapporto di un imprenditore, oppure nel 99 quando compra Ray-Ban, sia difficile il rapporto con i manager e un imprenditore quando ci sono questi sbalzi evolutivi. Del Vecchio è riuscito sicuramente negli anni a managerializzare la sua azienda, tant'è che quando è mancato e l'ha lasciata ha un'azienda completamente managerializzata, anche se, e qui c'è quello che gli ha portato grandissime critiche, nel 2014 a un certo punto dice devo tornare. E quella è l'unica cosa che Del Vecchio ha voluto che in qualche modo spiegassi nel libro, anche se la mia, ripeto, è una biografia non autorizzata, quindi sono io che racconto come ho visto Leonardo Del Vecchio. Quando tutti i giornali gli hanno detto... è il vecchio patriarca che torna a distruggere l'azienda che ha creato perché non ha avuto il coraggio di lasciargli. Perché nella teoria manageriale classica l'imprenditore a un certo punto deve lasciare la mano al manager. Lui però sostiene, e i numeri gli danno ragione, sette anni, otto anni dopo, perché a quel punto, all'epoca Andrea Guerra, secondo lui stava facendo mandare avanti la barca in maniera lineare, ma non aveva capito che c'era un salto evolutivo da compiere, l'e-commerce, il cambiamento delle tecnologie, si arriva a un'epoca di completamente di nuove tecnologie, quindi era il momento in cui lui si è sentito di dover tornare, anche perché per Leonardo del Vecchio l'azienda va sempre messa prima delle persone. Quindi Luxottica in qualche modo l'ha messa anche davanti, se vuoi, anche alla sua esistenza, perché a un certo punto l'azienda è diventata la sua famiglia, e quindi quando il manager diventava troppo protagonista e in qualche modo si metteva davanti all'azienda, questa cosa lui probabilmente non andava molto bene, e in più ha visto la necessità di tornare per fargli fare quel salto evolutivo. Secondo la teoria manageriale non avrebbe dovuto farlo, i numeri però gli hanno dato ragione, Luxottica fatturava 30 miliardi, adesso ne fattura, non so il numero esatto, ci sono troppe persone che lo stanno in sala, però più del doppio, la fortuna di Del Vecchio, il patrimonio di Del Vecchio nel 2014 erano 15 miliardi, sono diventati 30 nel 2020, i dipendenti sono triplicati, il valore in borsa è duplicato, sono riusciti a fare la fusione con i francesi di Essilior, facendo in qualche modo finta di diventare francesi, ma facendo diventare i francesi italiani. Tutti dicevano ha venduto, no? Me compreso, lo ammetto, anche noi di Bloomberg, quel giorno, quella mattina, quando ci chiamano, ci dicono che esce il comunicato, noi abbiamo scritto Essilior compra Luxottica, perché la società è di diritto francese, è quotata la borsa di Parigi, l'amministratore delegato viene dal gruppo francese, e mi ricordo che quel giorno lui ci fece chiamare, era un mio collega che si dice il pezzo, forse però non avete fatto bene i conti, perché per i tre anni c'è la governance paritaria, per carità, però se volete comunque fare i conti, dopo tre anni, comunque io ho il 30%, i signori francesi avranno circa il 5%, poi... Se l'avesse conosciuto prima non avrebbe sbagliato. Non avrei sbagliato ovviamente, però ammetto assolutamente sbagliato. Mi permette un paragone, a differenza degli Agnelli, almeno pare a me così, del vecchio ha sempre costruito il suo gruppo sulla base di logiche puramente di mercato, diciamo, io ho scoperto adesso che è stato consigliere comunale della democrazia cristiana, insomma, non è mai sceso in campo. Comunque questo video, aver avuto alcune di queste cose qui per quando scrivevo il libro, c'erano delle chicche, anche la storia della porchetta, che non cota, colui che taglia, eccezionale. Vabbè, sarà per eventualmente... Una ristampa, una griglia, eccezionale. Quando farai una prossima... Peccato non esserci stati a quelle griglie là, perché secondo me sono state delle serate interessanti. Ma qualcuno c'era, credo. Poi, però, del vecchio, di luxottica, si parla sempre delle grandi operazioni, delle acquisizioni, di Ray-Ban, le citava anche lei adesso. Però, appunto, alla base del business c'erano tanti elementi, tra cui questa straordinaria attenzione alle risorse umane, che hanno sempre fatto di luxottica, diciamo, l'avanguardia, in termini di welfare, il mio amico Dario Di Vico ne scrive, diciamo, in abbondanza, ne ha scritto in abbondanza già in quegli anni. Come riusciva del vecchio a conciliare logica di mercato, quindi di profitto, quindi risultati con lui di cui lei parla, con tante risorse destinate... Ma semplicemente perché Leonardo del vecchio era il vero presidente operaio, presidente artigiano. Leonardo del vecchio è stato uno di loro. Leonardo del vecchio ha iniziato in prima linea, nel senso in produzione. Ha iniziato a 14 anni facendo il fiol de bottega in un'azienda di Milano che faceva incisioni di monete. Leonardo del vecchio nasce operaio, cioè nasce in linea, quando ancora le linee non si sapevano. Quindi lui è sempre stato, pur essendo diventato il grande industriale, uno di loro, perché è stato uno di loro e questo non l'ha mai dimenticato. Quindi è il rapporto di Leonardo del vecchio con chi lavora in reparto, ovviamente con i primi che hanno iniziato con lui, anche se abbiamo visto diciamo l'abnegazione che richiedeva a tutti, gli orari di lavoro, insomma, sono cose diciamo d'anni 60 e 70 che adesso non si potrebbero neanche più dire, ma lui lavorava come loro e più di loro, arrivava in azienda presto presto al mattino, andava via per ultimo la sera, ma è stato uno di loro. Quindi l'importanza che lui ha sempre dato è che questa si è tramutata in quello che Luxottic ha fatto nel welfare. Luxottic ha inventato il welfare in Italia quando non esisteva neanche la parola welfare. No, veramente. E l'ha fatto perché Leonardo del vecchio ha sempre pensato all'importanza che i propri lavoratori lavorassero bene e avessero tutto di quello che potessero avere a disposizione per lavorare bene. che detta così anche lì è il motivo che mi ha colpito di lui. Detta così sembra una cosa semplice quasi banale ma in realtà è stato il primo a fare sono stati i primi tra i primissimi ad avere in fabbrica la mensa negli anni 70. Tra i primissimi a organizzare anche non solo per i dirigenti ma anche per gli operai livelli di welfare scolastico sanitario e quando c'è stata la grande crisi nel 2010-2011 a preparare il pacchetto di aiuti per i dipendenti in beni di consumo cioè è sempre stato all'avanguardia ma questo proprio perché per la sua natura secondo me uno non va mai lontano da quello che è stato e quindi Leonardo del vecchio è sempre stato molto vicino alle persone che lavoravano in reparto proprio perché essendo stato uno di loro aveva una particolare cura per queste persone ed è il motivo per cui è stato il primo a fare queste cose che poi quando Luxottica si è managerializzata sono state managerializzate mantenendo però questa visione poi è chiaro che tu facevi il paragone con gli agnelli no? e con altri settori chiaramente Luxottica ha avuto la capacità di primeggiare in un settore dove i margini di profitto erano storicamente più alti rispetto a settori di industria più pesante dove i margini sono più difficili quindi ovviamente c'è più possibilità però è stato l'unico che l'ha fatto l'avevo potuto fare tanti altri quindi questo dimostra che la sua era proprio una cosa personale e questo dimostra e questo lo vedi ancora di più quando vai a vedere e vai a studiare perché il mio libro è stato un libro più di ricerca che di conoscenza è stato un libro di ricerca tra le persone che conoscevano del vecchio tra i documenti ho avuto la fortuna grazie a lui di poter vedere i suoi documenti dell'orfanotrofio e poi pian piano alla fine cercare di conquistare un pochino della sua fiducia per incontrarlo un po' di volte e quindi se tu vai a studiare perché la cosa interessante che ho trovato è che c'era pochissimo materiale di studio su Luxottica pur essendo leader mondiale se tu però pian piano vai a studiare e lo paragoni ad altri casi anche internazionali trovi alcuni radici comuni dei grandi imprenditori e dei grandi pensatori e vedi sempre che dove uno è cresciuto influenza quello che diventerai e quindi Leonardo Vecchio cresce in orfanotrofio e quando a 14 anni inizia a lavorare ha come primo obiettivo quello di rendersi indipendente e di avere una condizione che non sia quella che avevano gli operai e il fiol di bottega dove lavorava lui quando aveva 14 anni che erano trattati proprio come gli ultimi come gli scarti in qualche modo e questa cosa se la porta avanti per tutta la propria vita e la porta avanti in quello che ha creato e quello che ha creato la sua azienda quindi è stato naturale in qualche modo straordinario ma naturale senta altre due questioni e poi c'è un libro che si può leggere quindi diciamo il filmato si conclude con adesso posso permettermi di sbagliare del vecchio ha commesso qualche sbaglio generali ma allora intanto vediamo cosa succede diciamo sulla partita cosa succederà nel lungo termine sulla partita generali medio banca ma poi si è stato scottato sulla vicenda e se non è prudente diciamo sul finale io diciamo ovviamente Leonardo del Vecchio non c'è più quindi adesso dipenderà cosa vorranno fare cosa vorrà fare la nuova Delphine però io ho capito studiando e conoscendo Leonardo del Vecchio che quando si mette in testa un'idea difficilmente andava alla fine senza portarla fino in fondo ecco ma al di là della partita generali che allora no sicuramente allora prima di tutto sulla partita finanziaria diciamo è entrato con un obiettivo più semplice di quello che aveva dichiarato cioè l'obiettivo di Leonardo del Vecchio era quello di aiutare a creare un polo finanziario internazionale come era riuscito a farlo con Luxottica e Silor nel mondo degli occhiali dice l'Italia non ha un leader finanziario a livello internazionale se c'è bisogno di dare una mano ho l'80% delle mie fortune investite in industria mi dicono diversifica nel finanziario qua posso mettere dei soldi così semplicemente non è passata è passata all'opinione pubblica magari anche per capacità diciamo di chi si è sentito in pericolo il vecchio imprenditore che vuole mettere le mani in cose che non gli competono e non conosce e questa cosa è passata anche attraverso gli investitori internazionali quando c'è stata la battaglia per il controllo dei generali del vecchio insieme all'altro imprenditore Caltagirone vogliono arrivare e rompere le scatole nel grande gota della finanza internazionale è passata questa cosa quindi qui forse non è riuscito a far passare quello che per lui era un messaggio semplice di cambiamento ma per portare qualcosa al paese sbagliare sicuramente quando lui diceva questa cosa cosa intendeva intendeva che adesso può fare delle scelte strategiche poteva fare delle scelte strategiche che potevano anche rivelarsi errate perché essendo leader globale puoi vedere prima degli altri se la direzione che hai preso è sbagliata e aggiustarla in corso d'opera quando decide nell'81 di andare a prendere avant-garde e diventare il praticamente il più grande distributore di occhiali in America e avant-garde grande due volte luxottica è chiaro che quella scelta lì se la sbagli e va male è complicato adesso dall'alto di una capitalizzazione di mercato di 80 miliardi se l'acquisizione che fai la sbagli ti puoi permettere di sbagliarla se adesso ad esempio quale sarà la grande domanda per il futuro è gli occhiali resteranno questo gadget semplice che abbiamo adesso o diventeranno un device tecnologico con cui faremo tante cose in questo momento e se la luxottica ha per una parte deciso di credere che il futuro potrebbe essere anche verso il metaverso anche verso gli occhiali intelligenti e quindi ha dedicato una parte delle proprie innovazioni a un accordo con meta di Facebook per qualche anno fa avevano provato a farlo con Google però lo fanno sapendo che c'è un core business che comunque stanno davanti per la sua strada per cui se sbagli quella cosa lì certo hai un contracolpo economico ma non stai mettendo sull'astrico migliaia di famiglie credo che fosse questo il senso del suo racconto il senso del bene adesso lui come dire ci ha lasciato quale responsabilità hanno i suoi eredi nel salvaguardare il futuro di questa impresa e anche di questo territorio perché diciamo no i timori è un territorio come il bellunese che è in difficoltà per conto proprio no a partire dal dato demografico che è drammatico dato demografico ma anche lo stesso settore dell'occhialeria abbiamo visto nelle ultime settimane la notizia che che Safiro chiude lo stabilimento di Longalone non è una buona notizia no anche se probabilmente ci sarà un'acquisizione da qualche altra azienda del territorio ma allora io devo dire che quando ci sono stati prima la Camera Ardente poi i funerali di Leonardo del Vecchio per me è stato un momento nella sua tradicità molto bello no perché la sua famiglia è una famiglia che non parla quasi mai e e lì sono venuti tutti a diciamo rimarcare l'importanza del territorio l'importanza di Agordo per Luxottica e l'importanza di Luxottica per la loro famiglia no quindi io credo che bisogna in qualche modo ancorarsi a quelle parole io per mestiere ho visto e vedo perché insomma seguo il capitalismo familiare ormai da qualche anno quanto i problemi di successione possono pesare sul futuro delle aziende no non so nel caso degli Agnelli tra virgolette la fortuna è che era rimasto solo John Elkin quindi c'erano stati vari problemi di successione si è scelto su uno e l'azienda è andata avanti il caso dei Benetton visto come quando c'è stato problem quando è mancato Gilberto ci sono voluti insomma mesi per trovare una nuova governance è chiaro che è importante guardandolo diciamo dal punto di vista del giornalista finanziario è importante che si dimostri unità di intenti in Delphine che è l'azionista di controllo di Luxottica no questa cosa è fondamentale per la stabilità del più grande gruppo globale al mondo di occhiali almeno visto diciamo dal punto di vista del giornalista finanziario ed è chiaro che per questo territorio Luxottica è fondamentale dal punto di vista industriale io credo che sia talmente interconnessa a gordo con Luxottica che insomma sia molto difficile che chiunque possa fare scelte diverse però è chiaro che Leonardo del Vecchio non c'è più ci sono otto eredi che hanno riuniti nell'azienda che controlla Luxottica e adesso chiaramente aspetta loro ovviamente dare la direzione anche se diciamo la direzione aziendale è stata presa Francesco Milleri al vertice dell'azienda tutti i manager diciamo hanno l'imprinting di Leonardo del Vecchio sanno quello che devono fare per continuare a mantenere la leadership però è indubbio che una scomparsa così crei delle preoccupazioni ma io credo che bisogna insomma rimanere diciamo ancorati a quello che abbiamo sentito a fine giugno in quella giornata al Palaluxottica che ha dimostrato secondo me quanto la comunità questa comunità sia sia vicina sia stata vicina a Leonardo del Vecchio anche in quel momento io sono arrivato lì il giorno prima ho voluto andare lì il giorno prima anche alla Camera Ardente stando un po' in disparte e quella giornata è stata molto bella perché tu vedevi veramente arrivare tutte le persone quelli che erano stati dipendenti con i figli i nipoti c'erano i bambini in carrozzina era proprio quasi una festa di paese che andava a tributare il saluto a una persona importante e la comunità hanno gli anticorpi per reggere il passaggio a suo assolutamente questo è fondamentale grazie a tutti grazie ancora grazie a Tommaso Ebert grazie a Zanchetta grazie a Boito grazie a tutti voi stai salendo Gianmarco? saluto io da parte di tutti grazie per essere stati noi in questa splendida serata l'abbiamo fatto in maniera trasparente in una discussione aperta e con dei ricordi assolutamente memorabili buona serata a tutti grazie